Acqua e minerali del Pollino, presentato a Vigianello il progetto che non trova però tutti d'accordo. Presentato a Vigianello il nuovo progetto della San Benedetto che imbottiglierà l'acqua proveniente dal fiume Mercure, un investimento cofinanziato dalla regione che però divide il paese. Sentiamo Emilia Rettura. Tra un anno questa sorgente non si vedrà più. L'acqua del Mercure verrà incanalata in un tubo che arriverà a poche centinaia di metri da qui, nello stabilimento in cui la San Benedetto produrrà 150 milioni di bottiglie all'anno con il marchio Fonti del Pollino. Oggi a Vigianello la presentazione del progetto, finanziato anche dalla regione, che sulla carta promette di mantenere intatto questo ambiente. Sono 70 anni che aspettiamo che ci sia un'evoluzione di lavoro per i giovani. Un'opportunità di imbiego per tutto il comune di Vigianello. Qualcuno che dice no, l'acqua è di tutti e non si può privatizzare. Per me va bene. Pauro, ci mancherebbe pure. Una cosa molto buona. Speriamo che crea un indotto che può far girare un po' d'economia in questi posti un po' abbandonati. Un paese diviso tra la speranza di vedere arrivare nuovi posti di lavoro e il timore che qui, come già successo per la centrale a biomasse del Mercure, si venga per depredare e inquinare. L'aria deve essere pulita per fare un investimento così, visto che la inguinano a che cosa serve? La centrale pensa che non crea lavoro. Questo dovrebbe creare lavoro e benessere per il paese. Le garanzie sull'ambiente sono arrivate anche dalla stessa famiglia Zoppa, sproprietaria della San Benedetto, che ha ricevuto in concessione dalla Regione una delle sorgenti con la portata d'acqua più sostanziosa del Sud Italia. Restano da definire gli accordi sull'occupazione che prevede 15 dipendenti diretti e 40 nell'indotto. Anche questo rientra in un protocollo di indesa che spero si faccia più presto perché chi è stato attore partecipe di questa concertazione, quindi la Regione Basilicata e lo stesso Comune di Vigianello, abbiano una voce in capitolo per quanto riguarda anche le professionalità da assumere.